eruzione vulcanica a l'isola dei caraibi chiamata san vincent infatti pensate che ben 16.000 persone sono state evacuate per colpa di questa minaccia presente ossia la minaccia del vulcano nell'isola dei caraibi chiamata san vincent che può eventualmente andare ad eruttare una vita crociera in soccorso meglio in aiuto ma soltanto per i vaccinati ecco 16.000 persone si sono dovute spostare hanno dovuto emigrare da quest'isola dei caraibi san vincent per colpa di questa eruzione vulcanica per colpa di una eruzione di un vulcano ripeto nuovamente insomma non c'è pace tra gli ulivi mi sento di dire è una vicenda questa triste che sciocca e chiamare gioia quest'isola caraibica per eccellenza un saluto caro dalle andro narratore italiano iscrivetevi al canale commentate ciao al prossimo video